Ben trovati dalla redazione in studio Rosario Cauchi, passiamo alle notizie, apriamo subito con il progetto presentato da Eni e Consiglio Nazionale delle Ricerche dopo la Green Refinery infatti la cui fase operativa dovrebbe scattare a fine anno, Eni mette sul tavolo la fusione nucleare Gela rientra nell'accordo appena siglato dalla multinazionale e dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, un totale di 20 milioni di euro da destinare a quattro centri di ricerca in Italia, Gela per la fusione nucleare. Questo accordo rappresenta per Eni un notevole passo avanti verso lo sviluppo e la realizzazione di tecnologie sempre più efficienti e in grado di creare energia in modo sostenibile e accessibile a sempre più persone, ha detto l'amministratore delegato di Eni Claudio Descalzi. La tecnologia scelta per le ricerche a Gela è quella del cosiddetto nucleare pulito già sviluppata negli Stati Uniti. Da poco invece l'Enea ha scelto Frascati come centro di eccellenza internazionale per la ricerca sulla fusione nucleare. Non siamo a Timpazzo, niente decreto autorizzativo dalla regione, la discarica domani chiude, emergenza su emergenze e rifiuti rischiano un caos profondo. Da due anni nessuna indicazione è mai arrivata dalla regione dopo la presentazione del progetto da parte del commissario liquidatore del lato CL2 Giuseppe Panebianco e del direttore tecnico della discarica Sergio Montagnino. Né la giunta Crocetta né quella Musumeci sono state in grado di rilasciare il decreto autorizzativo nonostante siano in corso i lavori di ampliamento del sito e di realizzazione dell'impianto di trattamento meccanico-biologico. A Timpazzo non c'è più spazio per abbancare. Nel caos potrebbe finire anche l'impianto di compostaggio di contrada a Brucazzi, a sua volta a rischio stop. In Consiglio Comunale adesso se il sindaco cercava sostegni politici cominciando dalla crisi dei rifiuti, ieri sera in aula ne ha trovati pochi, pochissimi. Sono state durissime infatti le critiche arrivate dai banchi dell'assise civica durante la seduta monotematica convocata dopo quanto accaduto nelle ultime settimane. C'erano i lavoratori della Tecra che non percepiscono gli stipendi ma ci sono stati gli strali di centrodestra e centrosinistra contro il vice sindaco Simone Siciliano assente in aula per impegni istituzionali e contro lo stesso messinese. Questo sindaco, attaccato il capogruppo di Noi con l'Italia, Vincenzo Cirignotta, aveva promesso in campagna elettorale di cacciare la Tecra, poi invece si sono seduti intorno ad un tavolo siglando la Pax. A conclusione della seduta ulteriore protesta dei lavoratori della Tecra. Tiviamo con lo sport, il calcio, il campionato di Serie D. La trasferta allicata per il match contro la Cireale è stata vietata ai tifosi accesi. La partita ultima di campionato per questa stagione si giocherà senza tifosi residenti nella provincia di Catania, a cui è stato vietato l'acquisto di biglietti. Tra le altre cose i rapporti sono incrinati anche con la tifoseria licatese, oltre che con quella gelese, ragion per cui era prevedibile il divieto. La società Biancazzurra, per incentivare l'accesso di tifosi al derby, ha ridotto il prezzo del biglietto. Si pagherà solo 5 euro, mentre per le donne l'ingresso è gratuito. Designata la terna arbitrale sarà il signor Dario Madonia di Palermo a dirigere il derby, collaborato da due assistenti campani, Santo Zanfardino di Frattamaggiore e Marco Orlando Ferraioli di Nocera Inferiore. È tutto, vi ringrazio per l'attenzione. Grazie a tutti.